Siamo con l'Arcipleti Plebano di Nembro, Don Antonio Guarnieri. Ecco, quindi si avvicina un appuntamento importante, forse più importante per la comunità, prima il Triduo dei Morti e poi San Martino, che significato ha per la vostra parrocchia? Innanzitutto, diciamo così che la parte più importante, che coinvolge più persone, è soprattutto la novena della Madonna, però certamente anche quello del Triduo dei Morti e poi anche della festa patronale di San Martino, non è in secondo piano. Per quanto riguarda il Triduo dei Morti, lo viviamo proprio in questo periodo, dopo la festa dei Santi e della commemorazione dei defunti, continuiamo questa nostra preghiera ricordando appunto tutti i defunti, in modo particolare quelli che ci hanno lasciato nel periodo del Covid. Quindi quella settimana sarà tutta una settimana incentrata proprio sulla preghiera per i nostri defunti e anche di quelli di cui più nessuno si ricorda. E poi un po' più in là, la domenica intorno all'11 novembre, che si ricorda la festa di San Martino, chiaramente è patrono della nostra parrocchia e in questo contesto la Caritas fa una raccolta di generi alimentari per i bisogni delle famiglie bisognose appunto dalla nostra parrocchia, oltre naturalmente alla messa solenne che faremo nel ricordo appunto di questo Santo. E per ricordare a tutti noi il bisogno di essere caritatevoli appunto come lo è stato il nostro patrono San Martino. Che volontari sono già all'opera per rendere la Chiesa il punto di riferimento di quei giorni? Beh qui si mette tutto l'apparato per quanto riguarda il trido, che è una cosa veramente bella, magnifica, ma al di là appunto di questo qui, il richiamo appunto di queste più di 200 candele mi pare, è il ricordo appunto di tutti i nostri defunti che vivono nel Signore Risorto, ecco perché le candele vive accese. E sono già all'opera nella costruzione di questo apparato perché è particolarmente compresso e certamente vivremo questi giorni, spero, con grande spirito di fede. Siamo con Nicola Persico, Vice Presidente della Federazione Campanali Bergamaschi, ecco siamo a Nembro, nella tua Nembro, dove si prospettano delle giornate importanti per mettere in mostra la vostra arte. Sì, per il secondo fine settimana di novembre qui a Nembro ci sarà la festa patronale di San Martino e per queste giornate abbiamo predisposto, cioè ritornano le visite guidate al Campanile, che è un appuntamento che manca da due anni perché c'è stato il periodo della pandemia, non è stato possibile farlo, quindi le visite guidate che erano un po' l'appuntamento fisso che facevamo da molti anni per San Martino, dal sabato e dalla domenica pomeriggio, quest'anno saranno il venerdì e il sabato pomeriggio. Allora inizieremo col programma giovedì 10 novembre, alle 16.30 il suono d'allegrezza, cioè a martelli sul campanile, alle 19.30 il suono accorda con le campane, poi una bella iniziativa che abbiamo organizzato insieme alla vice sindaco di Nembro, Sara Bergamelli, in biblioteca, alle ore 15, questo venerdì 11 novembre, che è la festa proprio di San Martino, alle 15 ci sarà un laboratorio con le campanine in biblioteca, poi alle ore 16 qui sul sagrato della chiesa plebana ci sarà la merenda offerta dalla federazione a tutti i bambini che saranno presenti e poi dalle 16.30 alle 18.30 le visite guidate al campanile. Ecco, mentre invece per la giornata di sabato sia qui a Nembro che sul campanile della chiesa parocchiale di Cenate Sopra, dalle 14.30 alle 16.30 ci sarà ancora una giornata di visite guidate al campanile con suono manuale d'allegrezza. Per poi concludersi la domenica, quindi il 13 novembre, qui a Nembro ci sarà un po' un ritrovo che abbiamo di tutti i campanari della regione Lombardia, oltre ai nostri della federazione campanari bergamaschi.